Sono molto contenta che questo premio sia stato assegnato al progetto MIMIC, che è il risultato di un lavoro di squadra soprattutto della componente giovane della FIL e grazie alla perseveranza soprattutto da dottoressa Chiara Pagani, nematologa, siamo riusciti a ottenere questo risultato. Il progetto intende esplorare il significato clinico delle anomalie del gene MIMIC e in particolare correlare e capire qual è la migliore terapia per questi pazienti. Inoltre, avendo a disposizione il tessuto che sarà fondamentale, vogliamo anche esplorare qual è il microambiente di questi linfomi nella speranza di individuare dei marcatori prognostici o che possano permettere di prevedere qual è la migliore terapia in questi pazienti. Il linfoma diffuso a grandi cellule d'alto grado è uno dei linfomi più diffusi ed è anche fra i più aggressivi in alcuni casi, quindi speriamo di dare qualche risposta ai nostri pazienti. Grazie.